Chiediamo una grande sinergia per favorire le fusioni tra i comuni perché attraverso la fusione di comuni ci sono risorse aggiuntive che arrivano dalla regione ma non solo per favorire l'incremento dei servizi sociali. È chiara la posizione di CISL in linea con quella di CGL e UIL. Tema quello delle fusioni tra comuni al centro delle linee guida per la contrattazione sociale 2024. Le manovre finanziarie del governo fanno sapere le tre sigle sindacali hanno sottratto risorse alle autonomie locali. Serve una grande alleanza tra le forze sociali e quindi anche gli enti, le istituzioni, la politica perché il governo non continua ad agire sulla leva del taglio e trasferimenti perché nel taglio e trasferimenti ci sono danni inenarrabili alle comunità e alle persone che noi rappresentiamo. Sul tavolo anche la lotta all'evasione fiscale e il tema dell'abitare. I sindacati hanno infatti sollevato la questione delle case sfitte nella marca circa 40.000-6.000 solo a Treviso. Il lavoro in sinergia con i comuni per cercare di incentivare lo stanziamento di fondi PNRR è anche a favore della messa a disposizione di alloggi privati. Mancanze quelle evidenziate che riguardano anche la sanità pubblica. Notiamo le mancanze che forse non ne hanno colpa però alla fine non riescono a dare risposte adesso soprattutto sulla sanità e sui sociali. Temi non nuovi sul tavolo della contrattazione sociale degli ultimi anni soprattutto dopo la pandemia. Sanità che come ricorda Vigilio Biscaro, segretario SPICI GL, nella provincia di Treviso si sta sempre più privatizzando e la mancanza di medici di base sta mettendo in difficoltà gli anziani che vivono nei piccoli paesi. Nonostante questo il bilancio della contrattazione 2023 per i sindacati porta segno positivo. La questione fiscale, perciò l'addizionale, dove abbiamo aumentato ancora il livello di esenzione per diversi comuni.